buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì primo agosto 2024 è il santo che si festeggia oggi l'abbiamo visto sfogliando dal manacco del giorno e santo alfonso maria dei liguori che visse nel diciottesimo secolo prevalentemente nel diciottesimo secolo era un ragazzo che la famiglia aveva indirizzato negli studi di diritto era avvocato ed era un avvocato molto molto bravo un giorno però commise un errore involontariamente durante una causa per la quale si pentì si pentì moltissimo e cambiò completamente vita lasciò la tonaga e si fece sacerdote fu in questa veste autore di molte di molte opere letterarie e anche di composizioni melodiche tra cui la famosissima tu scendi dalle stelle derivata come versione in italiano da quando nascette ninno una canzone una melodia di tipo napoletano fu vescovo di sant'agata dei goti sant'alfonso maria dei liguori e morì il primo agosto del 1787 all'età molto veneranda di 91 anni questo è sant'alfonso maria dei liguori vediamo ora le previsioni del tempo ecco la grafica tempo stabile è ampiamente soleggiato per l'intera giornata su tutto il territorio fa molto caldo di giorno con punte che arriveranno a 36 38 gradi ormai siamo veramente al top della temperatura di quest'anno le minime si sono attestate a 23 gradi i venti sulle coste espireranno con una tensione media da est e sud est mentre nell'entroterra da sud ovest il mare è calmo il sole è sorto alle 5 54 e tramonterà alle 20 e 32 questo è per quanto riguarda il quadro della giornata di oggi che ci apprestiamo a vivere intanto diamo un'occhiata ai giornali per quanto riguarda le notizie che si riferiscono alla giornata di ieri e vediamo la notizia che probabilmente farà più scalpore una strage di oche e anatre è morto anche il cigno ugo quel cigno nero che era la mascotte del canale albani che cosa è accaduto è accaduto che molto molto probabilmente il canale è stato oggetto di una incursione da parte di un branco o di lupi o di cani randagi che hanno fatto strage di oche e di anatre che popolavano appunto il corso d'acqua corso privo d'acqua e quindi non c'era scampo per questi animali che hanno stannazzato tra le tre e le quattro di ieri notte hanno sentito i rumori anche coloro che abitano nei pressi delle sponde del canale ma pensavano che fosse un po qualcosa che capita non molto spesso ma capita senza suscitare allarme invece questa volta veramente era successo qualcosa di grave predatori di notte nel canale albani rinvenute ben 15 carcasse c'erano 45 volatili ora i superstiti sono stati messi in sicurezza ma il problema di privare il canale albani dell'acqua in questa stagione in agosto quando fa veramente tanto tanto caldo quanto poi la città è in pieno del suo la sua attrazione turistica ebbene questo è un provvedimento che bisogna rivedere ad ogni costo ad ogni costo non solo una questione estetica non solo una questione ambientale perché poi quando si asciuga il canale vengono fuori tante cose brutte rifiuti copertoni macerie e roba del genere ma questa volta anche strage della oasi faunistica questa bella oasi che era stata costituita da curina un residente amante amante proprio della natura che aveva reso ancora più gradevole questo corso d'acqua che attraversa la città strage di anatidi nel canale albani ieri notte tra le tre e le quattro questa è quanto riporta il corriere adriatico mentre il resto del carlino lo pone in apertura branco di lupia zanna le oche e i cigni del canale albani in titola e vediamo qui una bella foto del cigno nero denominato ugo era stato immesso nel canale insieme ad una compagna che purtroppo non è sopravvissuta e morta dopo pochi giorni invece ugo era sopravvissuto se ne andava sempre solo solingo lungo il corso d'acqua ed ora purtroppo è stato sbranato e vediamo qui anche altre carcasse che sono distese esanimi sul fango del canale e beh una notizia certo che non fa piacere per gli amanti degli animali ma anche per la valorizzazione della città l'altra notizia che viene evidenziata dal corriere adriatico riguarda il dibattito del consiglio comunale dell'altra sera in tema di sanità nessun blocco operatorio ad agosto a urbino una breast unit autonoma il sindaco luca serfilippi nega l'allarme delle opposizioni e accusa il direttore magalotti di strumentalizzazione politica ebbene secondo il sindaco serfilippi non esiste una particolare emergenza per l'indisponibilità a luglio agosto delle sale operatorie al santa croce la riduzione del loro uso per la concentrazione in questo periodo delle ferie del personale sarebbe in linea con quella degli anni precedenti e quindi non ci sarebbe un allarme rispetto a quanto era quanto è solitamente era accaduto quanto solitamente si stava verificando e poi c'è un dibattito per quanto riguarda l'atteggiamento il comportamento del dottor magalotti tra urbino e fano magalotti avrebbe privilegiato fano per quanto riguarda le operazioni privando urbino delle sue sedute e vediamo anche come il tema viene evidenziato dal resto del carlino magalotti ha disertato l'ospedale di urbino afferma il sindaco maurizio gambini che risponde alle affermazioni del medico in consiglio comunale di fano ho chiesto autonomia per la nostra breast unit ha detto il sindaco riferendosi appunto alle dichiarazioni di magalotti lunedì acquaroli e saltamartini saranno in consiglio in consiglio comunale di urbino per parlare di sanità è una nuova seduta monografica sulla sanità a fano è stata richiesta anche dal consigliere di sinistra di insieme scusate samuele mascarin perché insomma da quanto acquaroli e saltamartini sono intervenuti in fano in consiglio comunale le cose sono cambiate e occorre una nuova presenza della regione per rispondere un po' a tutti gli interrogativi che sulla sanità incombono specialmente per quanto riguarda fano vediamo ancora poi c'è tutto il dibattito il resoconto del dibattito tra serfilippi e magalotti magalotti sta facendo un lavoro incomiabile è stato riconosciuto anche dal sindaco per quanto riguarda la cura in modo particolare dei tumori al seno magalotti ha chiesto di non ridurre le sedute operatorie perché ci sono tante donne che aspettano in una situazione psicologica ovviamente molto molto critica che aspettano l'operazione sappiamo che intervenire in maniera molto preventiva molto precoce significa il 90 per cento della soluzione di questo problema e poi si è parlato anche di dotare fano di una seconda autoambulanza disponibile 24 ore su 24 con infermieri a bordo sì dell'intero consiglio una proposta evidenziata dalle consiglieri del movimento 5 stelle francesco panaroni sostenuta poi da tutti gli altri esponenti della minoranza e anche della opposizione non prima però che il sindaco abbia chiesto l'eliminazione di alcune frasi insomma che non deponevano molto favorevolmente per i provvedimenti della regione panaroni ha accettato di insomma di cancellare queste frasi comunque il succo della mozione è rimasta e quindi il la giunta il sindaco è ora invitato a così intervenire presso la regione perché anche fanno possa avere questa seconda ambulanza e purtroppo il fatto che non ce l'ha ha causato anche di gravi disservizi purtroppo un paziente che aveva bisogno di un soccorso immediato non ha potuto essere così assistito precocemente le ambulanze sono arrivate dall'entroterra da più lontano rispetto che fanno e purtroppo il paziente è deceduto vediamo le altre notizie un milione per qualificare la stazione ferroviaria di fano lo ha annunciato l'onorevole antonio baldelli il quale si è battuto per cercare di dotare la stazione ferroviaria di fano degli elementi più decorosi per l'assistenza ai passeggeri la stazione ferroviaria di fano sarà riqualificata resa più moderna e anche più inclusiva l'avvio dei lavori è previsto per settembre prossimo dureranno nove mesi volti a migliorare la qualità dell'accoglienza con un investimento complessivo di un milione di euro e quanto ha dichiarato l'onorevole baldelli che ha incontrato a roma nei giorni scorsi quando il sindaco si è ricato proprio a roma per incontrare il ministro salvini ebbene lo vediamo qui nella fotografia insieme al sindaco serfilippi e l'assessore ai lavori pubblici gianluca ilari a fossombrone sono iniziati i lavori per il nuovo asfalto della superstrada tra calcinelli e fossombrone le rassicurazioni dell'assessore regionale baldelli questa volta si tratta di francesco sul rifacimento del fondo ammalorato sulla superstrada ebbene era un intervento richiesto da tempo sono iniziati i lavori di rifacimento lo stesso sarà fino a fossombrone sono iniziati nei pressi di calcinelli poi si procederà fino a fossombrone per dare un percorso per consentire un percorso più agevole agli autoveicoli che percorrono questa arteria e poi un articolo che omaggia Enrichetta Vichi caposala che va in pensione ha lavorato per oltre 40 anni caposala delle cucine intermedie dell'ospedale di comunità di fossombrone vive oggi il suo primo giorno di pensione dopo oltre 40 anni di servizio e c'è la gratitudine appunto della cittadinanza San Costanzo dibatte l'ampliamento della discarica di Monte Schiantello una discarica che dovrebbe assicurare il deposito dei rifiuti ancora per qualche anno a livello provinciale e certo è che questa discarica nei pressi del comune di San Costanzo non è una cosa agevole per i residenti e colpa di marche multiservizi si dice carbone il sindaco sullo smaltimento dei rifiuti accusa dissonante all'ex sindaca Pedinelli insomma che cosa è accaduto è accaduto che c'è stata una mozione contro l'ampliamento della discarica di Monte Schiantello nel comune di San Costanzo la bagarre scoppiata a martedì l'opposizione ha preferito rinviare il documento non accogliendo la proposta degli otto emendamenti che la maggioranza aveva chiesto di inserire nella mozione per approvare la cosa all'unanimità e quindi il tutto è rinviato a una prossima seduta. Vediamo anche la pagina di Senigallia dove appare il rendering del ponte nuovo il ponte Garibaldi che è stato presentato dal presidente della regione Acquaroli e dal sindaco di Senigallia Olivetti. Ecco il ponte Garibaldi finalmente alvia i lavori nei primi mesi del prossimo anno. Il presidente Acquaroli volevamo lasciarlo nella sede originaria ma niente deroga e quindi verrà lanciato un concorso di idee. Il sindaco lo vorrebbe arcato e trasparente come quelli pedonali che attraversano Venezia ma più leggero e meno impattante del famoso ponte di Rialto. Insomma un paragone veramente improbo che il ponte di Rialto è un ponte storico, è un ponte che fa veramente il colore e l'atmosfera di Venezia. Certo non può essere replicato in un altro contesto. Invece il tipo di Calatrava potrebbe andare bene anche a Senigallia. Ad Arcevia, ad Arcevia un incendio, un incendio di stoppie, non controlla il rogo. Le fiamme dilagano un'ottantenne nei guai. L'anziano è stato denunciato dai forestali, è andato bruciato oltre un ettaro di bosco. Aveva dato un po' fuoco alle stoppie per eliminarle però insomma le fiamme poi sono estese e hanno causato diversi problemi. Vediamo anche la pagina di Pesaro dedicata agli investimenti per quanto riguarda il punto che è stato fatto sul bilancio e anche l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 per quanto riguarda l'approvazione in Consiglio Comunale. A illustrare i provvedimenti è l'assessore Pozzi che ha illustrato un maxi pacchetto di 855 mila euro per le manutenzioni e poi anche a disposizione un tesoretto da 2 milioni, l'ennesima prova che il nostro bilancio ha detto Pozzi è sano. Vediamo che cosa si farà con questi soldi. Oltre al nido della Torraccia un progetto vuole risolvere la lacuna del centro storico per quanto riguarda la carenza abitativa intervenendo sullo storico palazzo Aimonino. E poi ancora c'è la copertura del capannone comunale, la sede del centro operativo comunale Addio Amianto. Insomma sono investimenti che il Comune di Fano riesce a attuare con i soldi in fondi a disposizione. Vediamo ancora la querelle per quanto riguarda opera maestra e stella popolare. Per Ricci esposto in procura, oggi la prima commissione. I contributi alle due società, l'anzi, l'esponente dell'opposizione accelera. Perugini non cambia però idea. E qui vediamo i due contendenti, Marco Lanzi e Marco Perugini. Che cosa è accaduto? È accaduto che l'ex candidata sindaco Pia Perricci ha depositato una denuncia. Il Consiglio Comunale a martedì ha bocciato la richiesta della minoranza di istituire una commissione di inchiesta. Il vulnus riguarda i contributi che sono stati concessi in affidamento diretto, quindi senza bando, senza avere una gara, alle due società per un importo importante. L'abbiamo visto anche nella giornata di ieri, un importo che supera il mezzo milione di euro. La piccola pesca chiede un sostegno, un sostegno perché spetta a questo settore della pesca fornire il pesce. Siamo già in fermo pesca, però le mucillaggini limitano lo sforzo che si sta facendo per così fornire i mercati stagione fallimentare, dicono i pescatori. E c'è stato un incontro tra le associazioni di Pesaro e Gabiccia. L'unica strada è la richiesta di calamità naturale. Siamo veramente a questo punto. Ed è grave anche la situazione della siccità, per cui si ricorre al prelevamento del Pozzo di Sant'Anna. Altri dieci giorni in totale sicurezza. C'è stato a questo proposito un summit tecnico in regione per la protezione civile. Va salvaguardato l'equilibrio dei fiumi, soprattutto perché poi se si rompe questo addio rifornimento idrico. Da oggi viene autorizzato un prelievo minimo di 150 litri a secondo dal Pozzo di Sant'Anna, che viene coinvolto solo nei momenti di crisi come l'attuale. La festa del Basilico a Santa Veneranda è una tradizione tipica di questa frazione. Si apre stasera una delle più antiche manifestazioni della città e sul giornale viene esposto tutto il programma. Vediamo una notizia di cronaca. In fiamme un capannone del vivaio del giardino di Santa Maria delle Fabrecce. Distrutte attrezzature e la copertura del capannone. L'allarme è scattato ieri alle 18.30 quando le fiamme alte e un denso fumo hanno attirato l'attenzione appunto di coloro che erano nei pressi e quindi l'intervento immediato dei vigili del fuoco. E poi abbiamo una istanza avanzata in regione dalla consigliera del Partito Democratico, Micaela Vitri. Doppi turni e lavoro non stop per 16 ore. Accade nella casa di ferie Casa Aura, Santa Colomba. Situazione insostenibile per gli infermieri tra doppi turni e ferie saltate. La Regione si faccia carico dei problemi sanitari di questa istituzione. Ebbene, lavorare fino a 16 ore al giorno senza pausa insomma contrasta con tutte le norme e con tutti i contratti a livello lavorativo. Uno stage per canifobici, rieducato il pastore Killer. Si tratta di un'iniziativa che viene attuata nel canile di Calucio, gestito da gennaio dall'associazione Cane Orgoglioso. Ebbene, qui oltre ad ospitare i cani, sono 53 ospiti quelli che sono presenti al momento nel canile, pensate che in adozione dall'inizio dell'anno ne sono stati dati circa 40. Ebbene, qui c'è anche un corso per i cani aggressivi, coloro che magari sono morsicatori, in modo da così influire sul loro strato psicologico. Si fa anche con i cani queste cure, diciamo così, cure a livello compartamentale. Ecco, abbiamo terminato l'esame sul Corriere Adriatico. Diamo subito un'occhiata al resto del Carlino, dove le notizie già le abbiamo un po' anticipate. Vediamo l'apertura su quanto accaduto sul canale Albani. Poi abbiamo un appuntamento interessante. Oggi alle 11.30, segnatevelo, oggi alle 11.30 va in onda su Rai 1 la trasmissione Camper in viaggio. Ebbene, la trasmissione riporta tutto quello che c'è di più bello a Fano. Infatti, la truppa è stata presente, con i due conduttori Tinto e Lorella Boccia, nei giorni scorsi, il 3 e il 4 luglio, nella nostra città. Hanno un po' girato dappertutto, nel porto, nel centro storico, ed evidenzieranno le bellezze della nostra città. Quindi tutto si può vedere su Rai 1 alle 11.30. Poi l'articolo che riguarda i finanziamenti sulla stazione ferroviaria. E poi una presa di posizione degli ambientalisti della ciclovia del Comitato, ciclovia del Metauro, che afferma come una tutela arborea nel perimetro della centrale elettrica di Carrara, nei pressi della ferrovia incompatibile con le norme che regolano appunto le ferrovie. E poi un appuntamento. Un appuntamento rievocativo si terrà questa sera alle 21 nella chiesa del suffragio, dove si parla di Telefano, 50 anni dopo il debutto. Fano fu una delle prime cittadine ad avere una televisione via cavo e allora si rievocano quei tempi storici, quelle trasmissioni che attirarono l'interesse di tutta la città. Prima di concludere, due notizie nell'entroterra. Barchi, Palazzo Lenci diventa una start-up. Una società di architettura di Castelfranco Veneto acquista lo storico mobile per farci sperimentazioni e rilanciare l'antico borgo. Un bellissimo palazzo che ora avrà, un palazzo del Cinquecento, pensate, che ora avrà una evidenza e una ristrutturazione all'altezza della situazione. A Urbino ci abbiamo parlato. Vediamo invece quello che accade ad Auditore che piange. la Luisella Carloni fu la prima sindaca del Comune. La morte è avvenuta martedì per cause naturali. Purtroppo a 55 anni era ancora giovanissima di età. Oggi funerali a Schieti alle 10.30, ok alla donazione degli organi. E con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa, dandovi appuntamento alle 7 di domani mattina, puntuali come tutti i giorni. Grazie per l'ascolto e a risentirci.